Momenti di paura ieri pomeriggio per un'anziana disabile finita nel mirino dei ladri mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione la pensionata in precarie condizioni di salute si sarebbe trovata di fronte tre malviventi incappucciati che entrati nell'appartamento in via San Cumano alle porte di Benevento avrebbero rubato soldi e gioielli per un valore di oltre 1000 euro. Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati dei vicini di casa della malcapitata che hanno allertato le forze dell'ordine. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi gli agenti della volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini sull'ennesimo raid nelle case registrato nell'immediata periferia della città. L'ennesimo dramma della solitudine e dell'abbandono.